a questo punto dobbiamo chiedere come avvenga che noi quali uomini terrestri dobbiamo d'altro lato cercare a nostra volta di correggere gli influssi nocivi delle antiche forze lunari certo noi sentiremo che quali uomini terrestri non possiamo proprio desiderare che avvengano eruzioni vulcaniche e terremoti che non possiamo noi stessi distruggere degli organi per sostenere l'effetto benefico delle potenze spirituali però potremmo anche dirci e questo ha certamente la sua giustificazione che se in qualche luogo scoppia un'epidemia con questo viene portato qualcosa che l'uomo addirittura cerca affinché in lui qualcosa venga pareggiato possiamo ammettere che l'uomo venga spinto in certe condizioni a subire un danno mediante il cui superamento si avvicina al perfezionamento ma allora come la mettiamo con le misure igieniche e sanitarie qualcuno non potrebbe allora dire che le epidemie possono produrre molto bene non è forse sbagliato che con tutte le disposizioni che promuovono la salute con le misure che prevengono la malattia si riduca la possibilità di azione di tali influssi vedremo che non è così però solo a determinate condizioni vale a dire che saremo soltanto preparati nella giusta misura da un lato a comprendere nel prossimo studio come gli influssi benefici ci arrecchino addirittura le lesioni di un organo affinché non cadiamo sotto il dominio della maia illusione e dall'altro a renderci coscienti dell'azione che noi provochiamo quando ci sottraiamo all'effetto di tali influssi benefici prendendo delle misure sanitarie e igieniche contro le malattie era il 22 maggio del 1910